segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te c'è sicuramente molta euforia nella destra però devo dire ci sono anche degli esclusi eccellenti e non dimentico io non dimentico chi è lei scusi italexi giorgio italexi usciremo da tutto è ah in che senso fuori 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 dal ue dalla nato dall'oms fuori dalla banca mondiale dal wt o dall'oxe fuori 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 ma non vi ha votato nessuno ecco quindi andiamo fuori dai coglioni allora dicevo che c'è un po